Con i primi freddi arriva l'influenza. Osservare una buona igiene è la prima forma di prevenzione. Non usare gli antibiotici se hai l'influenza, che è un'infezione virale. La vaccinazione è il mezzo più efficace e sicuro per prevenirla. Ricorda che per le categorie a rischio è raccomandata e gratuita. Chiedi al tuo medico. Proteggi te stesso e gli altri. Grazie a tutti.